Il nostro rappresentante ufficiale, in veste ufficiale, ci comunica il nostro pensiero. Vai Francesco. Io commissione di prima, rinnovo i ringraziamenti per tutti voi, siamo molto contenti della vostra partecipazione. Mi fa molto piacere vederti così numerosi, a facci degli auguri a tutti noi. Noi siamo molto contenti della vostra presenza, finalmente è giunto un giugno. Tanto atteso traguardo della pensione. Sono tutti contenti e felici. Vi ringraziamo ancora una volta di vero cuore a tutti quanti, veramente siete stati molto generosi e gentili a venire qui a facci onore della vostra presenza. Grazie ancora a tutti. La cosa più importante che mi sento di augurare a tutti voi, e poi la cosa più importante, tanta tanta buona salute a voi e alle vostre famiglie.